Paesi della Basilucania, un programma di Radio Potenza Centrale, la radio che si vede, vi aspetto questa sera dalle 19 alle 20. Questa sera niente ospiti in studio, farò tutto da solo quasi e ripercorreremo un attimo in quattro mesi di attività svolti da Paesi della Basilucania. Quindi mi raccomando, vi aspetto numerosi e possiamo anche interagire sia telefonicamente ma anche sui social, quindi vedere il tutto in diretta su YouTube o anche sulla pagina Facebook Paesi della Basilucania e su quella di Radio Potenza Centrale. Bene, vi aspetto numerosi a questa sera. Buona giornata.